Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora signori quest'oggi concluderemo il mese di marzo per quanto riguarda il Salford Poi ci sono due partite con la nazionale inglese che vedremo nella prossima puntata Due amichevoli nazionali Comunque ragazzi quest'oggi puntata molto cruciale perché abbiamo dei dentro fuori abbastanza importanti Soprattutto il primo contro i Nottingham Forest, quarti di finale di FK Poi il ritorno di Champions che dovrebbe essere abbastanza morbido In casa contro il Porto e poi per finire importantissima partire di campionato contro il Crystal Palace Visto che in campionato veniamo da addirittura due sconfitte consecutive contro Brentford e Tottenham Ma come al solito raga prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace A riscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità E a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo E come sempre in descrizione manca sostenere e supportare il canale tramite una donazione Grazie al link che è comunque in descrizione Detto ciò ragazzi possiamo scendere subito in campo Nottingham Forest contro Salford Ovviamente miglior formazione possibile al 100% Fatta eccezione solamente per Poppa Che diciamo visto che siamo in Coppa gioca lui Almeno lì è giusto che scenda in campo Abbiamo fatto il patto a inizio stagione Comunque Cucureglie, Andi Cani, Anzug, Ertruda, Florentino, Kierkegaard, Baturina, Williams, Ribeiro e Veil Sono i 10 giocatori di movimento che devono portarci alla vittoria quest'oggi Occhio subito Opportunità per il Nottingham Forest Ancora che si crea il buco Ancora che si stacca il centrale Si crea lo spazio per gli avversari Ancora che sono pericolosi Ma stavolta fortunatamente non segnano Ma arriva la parata di Poppa Occhio ragazzi che c'è l'opportunità di contropiede Rodrigo Ribeiro Mette il pallone in avanti verso Nico Williams Ottima idea Nico Williams Il destro da parte dello spagnolo Che non sbaglia e trova il gol del vantaggio Se in campionato le cose non stanno andando proprio benissimo Nelle ultimissime partite Almeno in Coppa Riusciamo sempre a vincere Riusciamo ad andare avanti Adesso siamo in vantaggio anche contro il Nottingham Forest Siamo anche in trasferta Quindi difficoltà in più Visto che Nottingham non è roba da tutti i giorni Che arriva ai quarti del FK Quindi sicuramente verrà spinto da un pubblico molto caloroso Non ci credo ragazzi Pareggio di Nottingham Forest Di rimpallo L'avevo chiuso difensivamente La palla che è rimasta lì Rimbalza sul mio giocatore E andrà giù Ma senza pensarci su due volte Riesce a trovare il gol del pareggio Però è allucinante subire questi gol Veramente ti passa la voglia Poi sul primo palo Popa Che improvvisamente si assopisce E poi c'è ancora Nottingham Palla in avanti Cosa ragazzi Cosa cavolo ho appena visto Mamma mia ragazzi Veramente immarazzante Arriva la parata di Popa stavolta Ma FIFA purtroppo si è svegliato Occhio ancora Dan Juma Che infermabile Soprattutto se non mi selezioni Il giocatore giusto Che dovrebbe andare a contrastarlo Eh FIFA Occhio a Nottingham Purtroppo quel gol che ho fatto Le ho fatti veramente arrabbiare a loro Perché Sono scatenate adesso Ci stanno schiacciando Come se non ci fosse un domani Stanno facendo di tutto Per passare in vantaggio E propriamente se non ci riescono Questa transagonistica Da parte loro Non finirà mai Occhio a Nianzu L'appoggio Per Nico Williams Vado di Corribero Toccala Per Kiergaard Che non calcia ovviamente Di prima intenzione La stoppa un attimo E dà il tempo Al Nottingham Di chiudersi Fuorigioco Fuorigioco ragazzi Era fuorigioco quello Spiazzato addirittura Popa Sullo scadere del primo tempo Incredibile ragazzi È passato in vantaggio Il Nottingham Forest Ma stiamo passando Un momento veramente nero Ovviamente Fischia subito l'arbitro 2-1 per i nostri avversari Partita veramente strana Pure questa Appena abbiamo segnato Il gol dell'1-0 Sono diventati Fortissimi E sono infermabili Traccia d'angolo per noi Baturina Può provare a metterla a centro Di testa arriva Fortissimo Proprio Di capa però Purtroppo Non inquadra la porta Occhio ragazzi Harvey Veil Può portare palla Harvey Veil C'è l'inserimento C'è l'inserimento di Chi è guard col sinistro E se ci mangiamo E se ci mangiamo pure Dove vogliamo andare Raga provo i 5 cambi Ma se manco quella formazione Titolare al 100% Riesco ad arrivare Ad andare avanti In coppa Vuol dire proprio Che non è possibile Comunque ragazzi La palla era fuori Perché non me l'ha fatti fare Subiti i cambi Madonna FIFA Madonna Oh qui Traoresi Giro il mio giocatore No ragazzi No No Vabbè Doveva andare così Niente Le coppe non si possono vincere Ormai è ufficiale Poteva essere In Nottingham Forest Ma qualsiasi squadra Avessi beccato Ai Ai guardi Sarei uscito Perché FIFA Ha deciso così Allucinante ragazzi Sicuramente Non ho parole Fuori un'altra volta Ai quarti Che cos'è sta cosa Vabbè Dopo la Carabllo Cup Usciamo anche Dall'EF Cup Veramente incredibile Ragazzi Nottingham Forest Una squadra fortissima Però è Nottingham Forest Chiaramente Non dovrebbe essere così Ed è assurdo Che siamo passati In vantaggio E poi Ci siamo totalmente Spenti noi Loro si sono accesi E hanno attivato Il chip Real Madrid E erano veramente Infermabili E questo ti fa capire Quanto si è scriptato Questo gioco Ma vabbè Pur a vedere i gol Uno peggio dell'altro Quindi capisci anche Da quello Che non potevi farci nulla Soprattutto il primo gol È A dir poco Vergognoso Comunque ragazzi Adesso Ottavi di ritorno Di Champions Contro il Porto Champions Che sicuramente Si rivelerà sempre Essere la competizione Più semplice Da vincere Rispetto Alle altre Però ragazzi Questa esclusione Dall'F Cup Mi dà veramente Tanto fastidio Veramente Veramente Tanto Perché Sognavo un triplete In questa stagione Mi hanno già tolto La Carabocup Adesso anche L'F Cup E chiaramente Adesso rimane La Champions E il Campionato Certo ragazzi Se riesco a vincere Le entrambe Difficilmente Farò una quarta stagione Però Se già ne perdo Una delle due Sicuramente Farò anche Un'ulteriore stagione Per provare La proprio A vincere tutto Ma proprio Con 100.000 punti fatti Però purtroppo Abbiamo capito Che puoi farti La squadra forte Quanto vuoi Ma se FIFA Ti vuole far perdere Ti fa perdere Non c'è modo Non c'è Non c'è fenomeno Sul 90 Che tenga Purtroppo Comunque Come detto Nella scorsa puntata Oggi scenderemo in campo Completamente Con la seconda squadra Perché a parte Che la prima È stanchissima Dalla partita di Coppa Anche se non hanno fatto niente Fondamentalmente Però Seconda squadra Complato Perché Soprattutto All'andata Abbiamo vinto 5-1 Ad Oporto E quindi Mi sento anche Abbastanza tranquillo In un certo senso E Occhio di A Prova ad azzare il pallone Verso Collen Collen Può subito tentare Un lunghissimo cross Verso Gibbs Che Sicuramente Non ha la testa dritta E si vede E Occhio al Porto Che prova A tornare in partita Qua La calcio d'angolo Arriva La gran parata Da parte di Poppa Addirittura rimessa dal fondo Questa non l'ho capita Però va bene così E Occhio ragazzi Ancora calcio d'angolo Per il porto Alan Velasco Addirittura Che va a battere Gibbs Riesce a liberare Occhio che c'è Che sedo Possiamo ripartire In contropiede Il tocco per Collen Che deve andare Da che calcio d'angolo È la nostra specialità Nel senso La ripartenza Da calcio d'angolo Che Collen La alza di testa Va dentro Verso D.A. Ma arriva la gran parata Della parte del portiere E Occhio al corner Patino La mette dentro D.A. Riesce a svettare Ancora una volta Ma ancora Palla fuori Occhio Santosh Possiamo andare Santosh Va dentro Forte Tesa la palla Arriva D.A. Che finalmente Riesce a segnare 1-0 Siamo in vantaggio A tempo Potentemente scaduto Ma ogni tanto Segniamo noi In pieno script E infatti Arriva subito Il fisico dell'arbitro 1-0 all'intervallo Per noi 6-1 Nel complessivo Cerchiamo semplicemente Di vincere questa partita Facendo finta Che non ci sia Quel 5-1 Dell'andata Cerchiamo proprio Di vincere Per dare più morale Alla squadra Visto il periodo Che sta passando Occhio ragazzi Possiamo avanzare Osservald Osservald Prova la Grazie FIFA Gentilissimo Magari non segnavo Però che accadano Ste cose Veramente Cioè Siamo nel 2023 Dovrebbe uscire Il nuovo FIFA Che non si chiama Più FIFA Ma ancora Che devo vedere Ste cose Giocatori che si Arravogliano Si arravogliano L'uno con l'altro Comunque ragazzi Arrivano i cambi Nel tentativo Di dare un po' di spazio Anche ragazzini Dentro Ace Farmer A centrocampo E in attacco Simon Hartley E Lucas Niente ragazzi Tanto che ha fatto Il Porto riesce A pareggiare Ancora con Callon Che se non sbaglio Ci segnò Anche E per gli standard Di FIFA È anche troppo Ho capito Lo script Eccetera Eccetera Non vuoi farmi vincere Nelle coppe Nel campionato Però Mi sembra esagerato Arrivati a un certo punto Perché Questa qui Non è più La mia squadra Non è più Lo stesso gioco Di qualche partita fa È un altro gameplay Lei proprio Comunque Occhio Lucas La palla Per Caicedo Dai Ma sto in aria Come cavolo Ma perché Ha fischiato Ma non era Ma non è incredibile Ragazzi È incredibile È incredibile Voglio vedere A parte invertite Quante volte Ho subito Ma anche abbiamo fatto Gol Con due Tre minuti Avanti Che se raggiostravamo Un attimo La palla Mandandola A destra A sinistra Avanti Indietro Perché ha fischiato Che gioco Vergognoso Ragazzi Comunque Ovviamente Poco male In questo caso Perché venivamo Dal 5-1 Però ragazzi A parte tutto Stiamo passando Un periodo Veramente brutto E FIFA Ce lo sta rendendo Tragico Praticamente Comunque Io penso Che il sorteggio Per i quarti Sia già stato fatto Madonna Che brutto marzo Allora Andiamo a controllare Il Barcellono Un'altra volta Ragazzi Anche l'anno Scorso E quarta Abbiamo beccato Il Barcellona E siamo usciti Quindi ragazzi Speriamo In un esito Migliore Quest'anno Comunque Salford Barcellona Bayer Monaco Liverpool Milan Leverkusen Ecco forse Leverkusen Ma anche Il Milan Forse era meglio Atletico Madrid Paris Saint Germain Quindi ragazzi Sicuramente Quarti di un certo calibro Sarà veramente Veramente Tosta Adesso entriamo In un periodo Veramente Durissimo Si gioca tanto Il mese di aprile Sarà veramente Memorabile Per l'importanza Delle partite Che ci saranno Comunque Ovviamente Andata di Champions Che vedremo già Nella prossima puntata Perché si affronteremo Le due partite amichevoli E poi La partita contro Il Manchester United E il Barcellona Per l'appunto Quindi sicuramente Vedremo Già Il nostro destino In Champions Se sarà indirizzato O meno E allora ragazzi Adesso in campo Contro il Crystal Palace Squadra Veramente Ma veramente Al 100% Questa volta Non voglio sentire Le scuse oggi Sono Anche con il portiere Perché diciamo Nella partita di prima C'era Popa In Coppa Però Per il resto Erano tutti migliori Quindi è veramente Insensato Come cosa In panchina Ci sono tutti Migliori giocatori Al 100% Quindi ragazzi È veramente Impossibile Perdere oggi Se mi fanno Perdere pure oggi Vuol dire proprio Che ce l'ha con me FIFA Evidentemente Hanno ascoltato Tutte le mie Critiche Per così dire Verso di loro E ora Se la stanno Prendendo Per ripicca Però Ragazzi Vinciamo Mi raccomando Faccio subito Nico Williams Con il kickoff Finalmente Un kickoff Fatto subito Gol 1-0 Andiamo avanti Cerchiamo di sfogare Tutta la nostra frustrazione Sul povero Crystal Palace Però Occio che provano a rispondere Subito Arriva il destro Da parte di Fabian Ruiz Addirittura Ma Fortunatamente Il pallone È alto Possiamo avanzare Harvey Veil Va Occio Nico Williams Da quest'altra parte Che becca Clamorosamente La traversa Tra l'altro ragazzi Nico Williams Che è anche l'ex Della partita Perché noi Se vi ricordate Lo comprammo Proprio dal Crystal Palace Quindi Diciamo Il fatto che abbia fatto Gol Da Kiko Glitch Era Anche abbastanza Telefonato Perché Chiaramente Adesso si attiva Lo script Ex E quindi È tutto più semplice Per Nico Williams Che qua Prova a calciare E va ancora vicino A 2-0 Ma occhio al corner Per Kiegaard Va col mancino Verso Rodrigo Ribeiro Che non riesce Di impattare bene Il pallone Ma occhio al Palace Che giustamente Sa di essere ancora In partita E che quindi C'è ancora tantissimo tempo E che può succedere Giustamente Qualsiasi cosa Quindi ci prova E vanno vicini Al gol del pareggio Ramsdale Deve salvarci Comunque Termina anche Il primo tempo 1-0 Per noi All'intervallo Troppo poco Le ultime partite Ci hanno dimostrato Che solamente Un gol Di Di vantaggio Non serve a niente Occhio a Harvey Veil Uce tantissimo spazio Per Rodrigo Ribeiro Improvvisamente Si era rotta La difesa Del Crystal Palace Ma ancora più incredibilmente Rodrigo Ribeiro Col mancino La spara alle stelle E occhio a Veil Rodrigo Ribeiro Buon appoggio Paturina Perde l'attimo Ma riesce ad allargare Allargare Per Nico Williams Ma arriva un miracolo Da parte del portiere Che non sa manco lui Come ha fatto a prendere Questo pallone Raga faccio solamente Un triplo cambio Per il momento Perché il resto Della squadra È ancora tranquillamente In grado di continuare Dentro Patino Al posto di Kiergaard Gibbs Per Nico Williams E D.A. Al posto di Rodrigo Ribeiro Che era quello più stanco E occhio ragazzi Al Palace Madonna Se ho paura Della beffa Eccoci qua 1-1 Segne Langa Ovviamente Ragazzi Madonna mia Che puntata Che puntata Chiaramente Noi giochiamo E ci mangiamo i gol Loro Tranquillamente Un tiro E segnano Con molta semplicità E adesso E adesso siamo qui Costretti A bestemmiare Per riuscire a fare Un altro gol E per tornare a vincere Di nuovo in campionato Sarebbe Il terzo stop consecutivo Tre partite di seguito In campionato Che non vinciamo E occhio che però C'è un po' di spazio Per Badurina Badurina Prova ad alzarla Perché Perché da quell'altra parte Ho caricato un gocciolino Era chiaramente Per D.A. Madonna FIFA Cioè com'è palese Che non vuoi farmi vincere Cioè mi cambi pure I passaggi Era chiaramente Per D.A. Il pallone Ti pare che la tua Gibbs Che è marcato Ed è alto 1,50 Quando ho il centravanti In aria Dai FIFA Basta Basta Non è possibile Cioè ragazzi Fondamentalmente Avevo il gol Del 2-1 Avevo vinto Niente Contro piede Mi fa sbagliare il passaggio Contro piede E arriva il gol Del Crystal Palace 2-1 Posso avanzare Mi ferma Va bene FIFA Mamma che schifo Una puntata vergognosa Tre sconfitte consecutive In campionato Tre sconfitte consecutive In campionato Adesso ragazzi Prendiamoci sta pausa Come il pane Perché È veramente incredibile Si ferma Nico Williams Arriva Al 91 Però vabbè Inizio anno Diciamo si sblocca sempre Nico Williams Quindi Non è questo il problema Parlo già di inizio anno Perché sicuramente Saremo costretti a fare Una nuova stagione Perché FIFA Non ci farà vincere nulla Manco Manco in questa stagione Comunque ragazzi Fantastico Tre sconfitte consecutive Brentford Tottenham E Crystal Palace Tutte e tre Per 3-1 E poi ragazzi Nel mezzo C'è stata anche L'eliminazione Dall'FK Balza al primo posto Potenzialmente Potenzialmente Ci sarebbe Anche Chelsea A 64 punti Quindi improvvisamente Ci siamo visti Sbriciolare la terra Da sotto i piedi Improvvisamente FIFA Ci ha messi Sott'acqua Ci ha detto Tu non devi più vincere Perché Non puoi Vincere quello Che vorresti E quindi Devi fare Una nuova stagione Nella speranza Che ti faccia vincere Perché Può essere pure Che una quarta stagione In massima serie FIFA manco ci fa vincere Per con me Il campionato Mi sembra Abbastanza andato Mi sembra Evidente Che vogliono Far salire Il City Il Chelsea E il Liverpool Quindi non siamo Ancora degni Secondo FIFA Di vincere il campionato Chissà Se lo saremo mai Comunque ragazzi Io per oggi Mi fermo qua Per la puntata Imparazzante Quindi io Come sempre Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram Ma e a sostenere il canale Tramite una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti